buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del gobo toscano oggi andiamo a parlare sempre di calcio mercato ma di una trattativa che finalmente sta arrivando anche questa alla conclusione siamo alle battute finali manca sempre meno e a breve la juventus formalizzerà un'offerta ufficiale la prima offerta ufficiale e poi vedremo cosa risponderà alla juventus la squadra interessata in questo scambio diciamo perché ci può essere anche uno scambio allora prima di tutto prima di iniziare ragazzi col video come sempre vi chiedo la gentilezza di lasciare un bel mi piace di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di condividere il video di commentarlo dicendomi la vostra e attivate anche la campanella delle notifiche di modo che tutte le volte esce un aggiornamento sul canale del gobo toscano a voi vi arriva subito tic sul cellulare quindi supportateci in ogni modo possibile iscrizioni like e quant'altro fatelo perché è veramente importante a voi comunque non costa nulla no a livello monetario non ci sono spese quindi fatelo perché ci fate veramente un grandissimo favore allora andiamo andiamo a leggere cosa ha detto fabrizio romano la juve vuole anche coop miners pronta all'offerta ufficiale all'atlanta la juventus si muove anche per te un coop miners dopo aver ufficializzato ufficializzato douglas luiz e aver chiuso perché friend to ram la juventus come riportato da fabrizio romano sta preparando la proposta ufficiale da presentare all'atlanta per l'olandese coop miners vuole la juventus è desideroso di trasferirsi già da febbraio ed è disposto ad iniziare una nuova avventura nessun problema lato giocatore tra i bianconeri l'olandese la juventus continua a volere douglas luiz to ram e anche coop miners per il centrocampo di tiago motta quindi ci sono buoni indizi anche fabrizio romano si espone si espone direttamente poi troviamo in un altro articolo una possibilità detto da il giornalista attilio malena a tv play ha parlato della situazione coop miners obiettivo primario della juve per rinforzare il centrocampo ha fatto così il punto sul possibile inserimento di contropartite nell'affare con l'atalanta perché non si parla solo di offerta monetaria per la cessione di coop miners l'atalanta chiede 55 milioni alla juventus o strano vi avevamo detto ieri pomeriggio in live esattamente questa cifra qui stranamente la riportano sarà l'unico sacrificato della dea le soluzioni possono essere due inserimento nell'operazione di sulle o uisen attenzione attenzione quindi 55 milioni inserendo uisen diventerebbero 30 più o meno inserendo sulle diventerebbero 15 ora io non so cosa valuti l'atalanta sulle su uisen avevamo capito ben o male che lo valutava intorno ai 20 milioni ritenuti dalla juventus effettivamente pochi anche per me sono assolutamente pochi immagino che per sulle non credo voglia sborsare 40 milioni e quindi valutare sulle 40 milioni e vendere coop miners solamente a 15 milioni più sulle quindi vediamo vediamo la trattativa come andrà avanti ma a breve ci saranno indicazioni importanti perché perché coop miners è arrivato a un bivio come l'atalanta e come la juventus cioè o alla juventus o all'atalanta o da un'altra parte all'atalanta ormai la vedo difficile perché aveva già raggiunto un accordo di massima con gasperini e con la proprietà dell'atalanta per andarsene a fine stagione con fresco anche di coppa uefa o europa league come la vogliamo chiamare ha deciso che all'atalanta ha già dato tutto quello che poteva dare e vuole fare l'ultimo salto di qualità o comunque il salto di qualità che gli permetterebbe di andare a competere in tutte le competizioni possibili perché è vero l'atalanta il prossimo anno sarà in champions league sarà in cop italia campionato però non farà la supercoppa italiana e non farà la il mondiale per club quindi la supercoppa italiana sapete non lo so non lo so chi ci va ora ora mi sfugge ci sta che la faccia però comunque il mondiale per club che è quella fondamentale non la fa e coop miners ha deciso ormai da tempo di voler andare alla juventus perché la destinazione preferita sua è rimanere in italia si trova bene in italia e vuole continuare in un club con un club italiano l'unico club che gli può garantire tale prestigio in questo momento della juventus è anche l'unica squadra che può garantire all'atalanta tramite contropartite o tramite cash quei 55 milioni tanto cercate tanto voluti dall'atalanta per lasciar partire coop miners ecco io dico una cosa faccio un'osservazione siccome l'atalanta non si schioda da quelle cifre 55 milioni 60 a certo punto arrivava a 70 la juventus è giusto e non si schiodi dalla valutazione di 40 milioni per sulle e almeno 25 per uisen quindi fatti questi calcoli io fossi la juventus rispetterei le cifre concordate quindi se lo volete se volete fare lo scambio e voi lo valutato 55 il nostro valuti 40 o 25 a seconda di chi prendi in più spero spero anche se non credo succederà che la juventus se l'atalanta dice va bene facciamo sulle più 20 milioni e ti diamo coop miners la juventus lo farebbe credo che lo farebbe ma non lo dovrebbe fare a mio parere perché a quel punto se no andresti a svalutare il tuo o a stravalutare il loro giocatore quindi diciamo che non è proprio il massimo non sarebbe proprio il massimo come colpo perché comunque sulle ricordiamoci può essere fondamentale per la juventus anche nel caso di un arrivo della così tanto agognata ciliegina sulla torta ovvero già don sancio perché già don sancio è sì vicino alla juventus è sì probabile che il prossimo anno vesta la maglia bianconera ma diciamo che ci vuole anche qualcun altro più o meno non sullo stesso livello ma competitivo su quella zona di campo lì invece avere un sancio e come riserva uea o comunque come alternativa perché le riserve secondo tiacomota non ci sono bene come alternativa uea e dall'altra parte avere un hildiz e come alternativa non so un altro che prenderà la juventus bisogna che lo prenda forte però perché perché se va via chiesa e chiesa andrà via se va via sulle poi rimangono cambiaso e uea sugli esterni ora non li vedo propriamente indicati a fare anche i titolari cioè immaginatevi una volta vi capi capita la debacle che non sono in condizione metti sancio non è in condizione e hildiz l'ha diffidato e salta la partita immaginatevi vlaovic con accanto cambiaso e uea ora è vero sai c'entra un po forte ma bisogna avere anche davanti chi è in grado di saltare l'uomo di mettere dei palloni importanti a all'attaccante quindi qualcuno lì ci vuole e un sulle secondo me farebbe comodo più del pane in questo momento però vediamo vediamo cosa decide la juventus la juventus da quello che riporta fabrizio romano e da quello che riportano ormai tutti da diversi mesi ha come obiettivo principale costruire questo mega centro campo che è il motore di tutta la squadra e soprattutto avere coop miners abile è arruolabile sappiamo che coop miners è reduce da un infortunio che lo terrà fermo almeno fino alla fine del mese quindi si aggregerà ai compagni di squadra probabilmente non so se subito a ritiro perché se la trattativa dovesse prendere una piega inaspettata si potrebbe andare anche più avanti a luglio inoltrato ma comunque appena arriverà farà sicuramente un differenziato lavorerà a parte poi si unirà al gruppo quando sarà completamente ristabilito coop miners è una prerogativa per la juventus molto di più di quello di quanto lo erano douglas luiz e che a friend to ram ora secondo me che friend to ram ce l'hanno raccontata un po male ma se avete seguito il nostro canale e qualche altro canale che lo riporta da un anno fa allora vi renderete conto che forse era il primo obiettivo che a friend to ram si stava cercando soltanto di limare un po i dettagli di cercare di abbassare le pretese del nizza ma alla fine anche 20 milioni più 5 di bonus vanno più che bene per quanto riguarda la difesa ne parleremo in un prossimo video perché ci sono sviluppi anche lì e quindi dovremo fare un po il punto della situazione chiarire alcuni dettagli però l'importante ragazzi è che stamattina vi svegliate con questo video coop miners al juventus più che possibile diciamo trattativa che sta per partire e entrerà nel vivo sarà lunga sarà intensa probabilmente ma ci sarà la prima offerta ufficiale della juventus ovviamente sarà credo al ribasso la prima sarà credo faccio un esempio 20 milioni più huizen provano a buttare 25 milioni più huizen dicendo huizen lo valutiamo 25 facciamo 25 25 50 milioni dateci coop miners a 50 milioni l'atalanta probabilmente se sarà un'offerta del genere rifiuterà l'offerta e la juventus dovrà riformularne un'altra ufficiale comunque giorni caldi ci aspettano mi raccomando iscrizione al canale like condivisione commento e attivate la campanella delle notifiche fino alla fine gobbo toscano fino alla fine forza juve mi raccomando state sempre sul pezzo perché qui sul canale possono uscire ufficialità da un momento all'altro ciao